si è stata una partita dura come è giusto che doveva essere però penso che soprattutto nel secondo tempo la squadra ha giocato ad una porta siamo arrivati tantissime volte a concludere non siamo riusciti c'è da fare un plauso alla squadra veramente perché siamo una rosa risicata e con degli infortuni che ormai ci perseguitano da parecchie giornate quindi dobbiamo giocare sempre gli stessi con pochi ricambi in panchina e quindi infatti come avete visto entrato un altro 2005 quando ho dovuto fare la sostituzione e quindi faccio veramente un plauso alla squadra che nuove partite non ha ancora non ha mai perso e nonostante le difficoltà di tutti questi ragazzi che sono mancati da partire da carchedico ormai manca da sei partite poi mi si è giunto morelli e quindi con la rosa che abbiamo che è cortissima ringrazio veramente tutta la squadra per per quello che ha fatto fino adesso